Musica Bella a tutti ragazzi, qui è la GPMTV che vi parla, io sono Jeff e oggi siamo su Minecraft Vi avevo detto che avremmo portato molto spesso Minecraft ed eccorvelo qui un'altra volta Benissimo, guardate la mia skin, bellissima Vabbè direi di passare subito al gioco e poi vi racconto delle novità che si stanno verificando nel canale Vabbè, partiamo subito a giocare Andiamo a scegliere il cartello, bene così, ok Allora, questa è la prima cosa che ci siamo trovati davanti Facciamo questa, mi sembra l'area 51, non è vero Facciamo questa Ah ma c'è iniziata, porca miseria Ma che cacchio ha in tutto questo? Ah è già iniziato, cioè io sono entrato nella partita in corso Sono un genio, sono Ecco questo, prendiamo qualcosa da mangiare Che cacchio se mi fa muovere Ammazziamo questo, che si può fare? Chi è morto? Vuoi la sua roba? E ora corriamo via Corriamo subito, ci siamo fottuti questa roba sua Corriamo via, lì c'è gente Quindi è l'ultimo posto dove andrò Se i giocatori rimanenti Questi mi vedono, cacchio Questi hanno fatto dim, sono inguaiato Sono inguaiato Devo correre, devo scappare, devo andare il più lontano possibile Corriamo intanto vi volevo dire, parlando del canale Che praticamente ci saranno, mi dispiace a dirlo Delle vere e proprie modifiche appunto nel canale Perché non riusciamo, cioè da parte di Magmon Non si sono riusciti più a avere le grandi, cioè non riusciamo più a avere video Perché, cioè in poche parole è complicato da spiegare Comunque in poche parole Non sapendo tempo, cioè non ce la fa Non riesce a portarlo avanti E quindi lo porteremo avanti soltanto due posti Ci dispiace un sacco La verità ci dispiace un sacco Perché l'avevamo fatto partire tutti quanti assieme Però si va avanti Quindi noi d'ora in poi la GPM per prima cosa cambierà il nome E questo è l'avviso più importante di tutti Che la GPM cambierà il nome E in più Beh questa notizia Staremo soltanto i e-posti Quindi cambieremo intro Nome Foto di profilo Foto di, cioè immagine di copertina Perché I motivi ci avevano spiegati E Va bene così Per il resto Torniamo al gioco Basta Basta brutte notizie Torniamo al gioco E vediamo Ci accorgiamo che non abbiamo neanche la spada Quindi alla ricerca di una spada Subito Se riuscire ad entrare in queste cose Se si può entrare ovviamente Vediamo un po' Infatti si può entrare Poi va a finire Che ci rimaniamo Infatti non ci sa una merda Usciamo fuori E Dobbiamo vedere di trovare una spada Lì c'è una specie di grattacello E penso che quella 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 sia la nostra direzione Corriamo subito verso Quella Questo coso Sperando che si apre Perché vedo che C'è una porta di ferro Vai a cagare Fai schifo Si apre la porta di ferro Senza niente I bug I bug sono perfetti Benissimo Ottimo Benissimo Proprio Siamo andati Mettiamo l'armatura Subito Vediamo un po' Ecco qui Gli stivaletti Siamo pronti per andare Alla riscossa Dov'è 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 Ecco L'ascia di ferro Andiamo a rompere i culi Aspetta no No Non mi ascolta Quando fai Cioè io clicco E lui C'è Non mi caga di seri Benissimo Così Cioè proprio Ci vuole il culo Abbiamo culo oggi Ed è meglio così Non parliamo Non chiediamo Non diciamo niente Vediamo due pezzi Cioè due stiche Ci potrebbero servire Vediamo anche un cosciotto Un cosciotto Mangiamo una torta di zucca Ci dà abbastanza Energia Mangiamo solo quella No anche una patata Le patate fanno bene Sono ricche di potassio E prendo Perché cacchio mi cambi La barra La barra La casella Scendiamo giù Speriamo di non trovare Di non morire Buttiamoci Attenzione Cerchiamo di non morire Perché sarebbe davvero Un epic fail Grandissimo Abbiamo rimasto la porta aperta Abbiamo rischiato tantissimo Qui è chiuso ovviamente E rivediamoci una Vediamo un po' Se troviamo qualcosa Qui c'è questo ponte Che non No non è un ponte E' quello dove sono passato Prima a mettermi l'armatura Inizialmente Ora Dobbiamo cercare queste Tre persone Che sono rimaste Sono rimaste Tre persone Da quello che ho capito Sarece una porta Vediamo questa porta Dove porta Scusate il gioco di perla E' la porta Più utile Del mondo E' una cosa incredibile E' la porta Più utile Del mondo C'è una cosa Impressionante Questa porta Mi ha portato In un universo Parallelo Bellissimo Però mi è stato Il grandissimo Vedo un nome Si sta avvicinando Porca miseria Si si sta avvicinando Siamo armati Siamo armati Ti avviso Ti avviso Siamo armati Siamo armati Ma questo secondo me Se ne sta cagando sotto E' lì E' lì Attenzione Noi ci avviciniamo Senza fare così Eccolo è lì Ora dobbiamo cercare Di non far fail Dobbiamo cercare Di non fare fail Eccolo Lo troviamo dietro l'angolo Eccolo Eccolo Lì dietro Ci avviciniamo Con calma Avviciniamo Con calma Ci avviciniamo Lo ammazziamo Do cacchio sto guardando Perché mi fa Far guardare in giro Che non mi fa colpirlo Ma perché Perché mi faceva Guardare in giro Lo sapevo Che facciamo Questo epic fail Perché Il Il E' un classico Di quando gioco Io Ma io mi domando E dico Perché Lo sto colpendo E mi fa guardare in alto Non è normale Non è normale Poi lo colpivo Lo colpivo E ne ero sicuro Che lo colpivo Non partiva Niente Cioè non partiva niente Non si faceva niente I primi due colpi Li ha subiti per bene Poi Oh Lo so E start Perché uno Si è andato Dall'altro lato Non lo so Io vedo un cacchio però Ah eccolo vedo Perché si fottono la roba C'è un tunnel Quale Quale Scegliamo Che è un po Quello Cacchio Ma perché muoiono tutti Perché muoiono tutti Questa cosa mi fa preoccupare Perché uno mi sta seguendo Andiamo qui Dai Qui Bellissimo però Come è fatto Eccola Roba gratis Senza rischiare la morte Ogni santissima volta E bravo Lascia di ferro Non c'è Cerchiamo di non morire Cacchio Mi è sembrato di sentire qualcuno Bene 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 Ok Ok Ecco qua Ora Shiftiamoci E armiamoci Ecco qua Prendiamo lascia di ferro Lascia 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 Ma questi lo possiamo prendere Tutto questo Vedete se rombo qualcosa No non si può prendere Bene così Vabbè qui in mezzo a queste canne Non abbiamo trovato niente Dando visto un nome Belli Lo so che li stiamo rischiando un sacco Sulla spada d'oro Non so perché mi dice Mi E perché sono rimasto Ah la ragnatela Ho detto perché sono rimasto bloccato Stavo un nome prima Ora non lo vedo più Ora come cacchio faccio Spiegatemi Questo mi vuole fottere Sta lì dentro Avviciniamoci silenziosamente Ce ne sono tre Porca miseria Qui Rischiamo un sacco Rischiamo un sacco Qua si sta avvicinando Io vedo un cacchio È vicino Siamo shiftati Penso che non ci ha visti Sta qua Vuole fotterci Sta qua Serio non se ne è accorto Non si è accorto di niente Porca vacca Ora lo seguo Gli arrivo dietro Ma dove sto andando Andiamo verso di lui Anche se è tutto nero Ah ecco Vieni qui pezzo di merda Cacchio Non riesco a muovere Perché ogni volta che incontro qualcuno Non riesco a muovere Guarda non mi fa muovere Perché ogni santissima volta Che incontro qualcuno Si parte Ecco qua Io vado direttamente Verso di là No 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 L'ho preso già io Vai a cagare Tutti quanti vanno di là E io vado nella direzione opposta a loro Cacchio dove vado Vengo qua Prendo un mezzo di ferro Prendi e fuggi Questa Ho visto Perché muoiono così Muoie Muoie Muore così la gente Io scappo Non voglio sapere niente C'è uno shiftato là dentro Però lo andiamo a ammazzare In 4 e 4 e 8 Andrò lo so già E faremo fail Assurdi Metto qui dietro Qui dietro Nessuno di me ne cercare Penso Mettiamoci qui Porca vacca Tutti quanti a me E' un po' Ma che cacchio fai mi pigli per il culo Tutti sti bug Mi serve una spada Io non posso combattere Già faccio schifo con la spada Pensa senza Shiftiamoci Bene 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 Va bene Va bene questa Va bene questa Porca Non si è accorto Dio Perché Io devo prendere la roba su E' lì Chi è Ma chi è Ma chi è Ma che cacchio era Si parte con la quarta partita Vediamo un po' Si parte con la quarta partita Oggi i giochi di parole Sono molti Vediamo un po' Oh cacchio Subito Subito scappiamo via Abbiamo trovato anche un diamante Scappiamo subito Abbiamo trovato quello che ci serve All'uomo Dove andare a cercare un'arma Vediamo un po' Vediamo un po' Scorri Scorri Manco corri Corri Vediamo un po' Inoltriamoci nella foresta Qui mezzo agli alberi Qui Qui ci dobbiamo mettere armature E' tutto Intanto ci sta qualcosa Mettiamoci subito l'armatura Non facciamo fesserie Cioè non so Cacchio ci vuole Per Per trovare una cesa Ma alla fine Va vede un cesare Eccola qua Eccola qua Benissimo Ecco qua Gli stivaletti Cioè i pantaloni Più questi vali Che questi vali Li teniamo Ed è anche un'ascia Andiamo a procurarci qualcosa Non legno Non ci serve Ci serve una spada Però Qualcosa E non è vetro Vai C'è una cesta C'è una cesta Sì Così Benissimo Normalissimo Parte il cibo Fa tutto cagare Cioè Di buono Non ho trovato niente Non possiamo mai farci La spada di lì Ma questo qua Tutto questo Ti poto io No Cioè io che cacchio devo fare Per trovare qualcosa Non me la posso manco costruire Perché non si possono tagliare Vediamo un po' Cosa cacchio Devo Dai cacchio 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 Vicino Ti vai Fatti Fai vedere Fai vedere Fai vedere come fa Se siamo morti Tutti e due Come cacchio È possibile morire in due Come è possibile morire in due Spiegami Come è possibile Come è possibile Si è visto che è morto L'ho visto tale e quale È morto pure lui Cioè Devo riprendere un po' la mano A giocare perché Prima ero il re del pvp Ora Non riesco manco Ad usare la spada È una cosa impressionante Suicidiamoci Che non è pot Non ti fa manco suicidare Come cacchio Oggi concludiamo Il video Con questo tipo Sul dietro di me Si Ehi tu Si dico a te Che cacchio Mi guardi Vabbè raga Per oggi è tutto Spero che il video Vi sia piaciuto Se vi è piaciuto Fateci pubblicità Mettete un mi piace E ci rivediamo Nel prossimo video Bella ragazzi Mettete un po' di